Venerdì 10 febbraio, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 c'è la rassegna stampa con la lettura dei giornali. Cominciamo però prima dal Santo del giorno, oggi è Santa Scolastica, Santa Scolastica è la sorella di San Benedetto, qualche biografo addirittura dice la sorella gemella di San Benedetto. Il sole sorto alle 7 e 13 minuti tramonterà alle 17 e 31. Anche oggi avremo una giornata molto nuvolosa e coperta con attenuazione della copertura nel pomeriggio, avremo in mattinata ancora diffuse precipitazioni più intense ed abbondanti nel settore meridionale della regione, specie quello interno. I fenomeni sono in graduale attenuazione nel pomeriggio, il limite delle nevicate attorno agli 800-900 metri nel settore pesarese, 1200 metri invece sui sibillini. Le temperature sono in lieve aumento. Per domani, sabato 11 febbraio, allora avremo cielo parzialmente nuvoloso con temperature in diminuzione, non pioverà, vedete i venti sono deboli dai quadranti settentrionali, il mare sarà mosso. Domenica, giornata di carnevale qui a Fano, quindi il meteo è particolarmente interessante da tenere sott'occhio, temperature comunque senza variazione di rilievo, non pioverà, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e avremo condizioni stabili anche per il resto della settimana. Cominciamo allora a leggere i giornali e cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico. In primo piano la sanità con la rottura del silenzio da parte del consigliere del PD Renato Claudio Minardi, che è anche vicepresidente del Consiglio regionale, che sul Santa Croce, sull'ospedale di Fano, dice l'ospedale deve rimanere aperto e vogliamo la clinica privata. Invita poi il sindaco di Fano Massimo Serie ad aprire una trattativa con Ceriscioli. Si potenzi poi la viabilità, dice ancora Minardi, con l'interquartieri fino a Gimarra, oppure si trovino altre soluzioni. Ieri Renato Claudio Minardi è stato ospite del nostro telegiornale. Se volete potete ascoltare la nostra intervista subito dopo le edizioni anche in replica del Tg, quindi alle 11 e alle 13 e 30. Poi dice ancora mi impegnerò per un pronto soccorso con tutti i servizi indispensabili per l'emergenza. A Rosciano di Fano invece è stato aperto il campo di inumazione per 260 sepolture. È stato ampliato il cimitero di Rosciano a Bellocchi e si lavora a 180 loculi. Si parla di carnevale naturalmente, mancano pochi giorni alla prima sfilata, al debutto e adesso ci sono iniziative anche collaterali come per esempio l'appuntamento classico di ogni anno con il dolce preparato dal pasticcere Stefano Ceresani. Elva il carnevale, il dolce apre le feste a tema, strappi superati, Ceresani propone il progetto Città del Gelato, al caffè centrale invece si inizia con le maschere. Sotto invece ancora spazio per questo cartellone pubblicitario che promuove il McDonald di Fano. La pubblicità c'è da 50 anni, porta risorse, un socio della carnevalesca replica alle critiche sul manifesto al Pincio di Fano. Un meccanismo invece di scatole cinesi, ecco il sistema societario della Eagles Aviation, l'amministratrice lituana, parliamo dell'aeroporto di Fano, di quello che sta succedendo in questi giorni, l'amministratrice lituana, dicevo, della fiduciaria UAB Balti che è anche titolare della proprietà di extra SRL in liquidazione. La società mantiene la riservatezza sulla ragione dei passaggi di quote e i piani di sviluppo. Dalla Valle del Cesano la frana di Orciano che è ancora lì ormai da troppo tempo, però pare che, pare almeno stando ad un post dell'ex sindaco Bacchiocchi sui social network che entro la fine del mese ci sarà questa assemblea con i cittadini per spiegare un po' come stanno dando le cose. Su questa frana c'è la procedura che al via servirà per assegnare i lavori nell'area. Guardate, stiamo parlando di una frana importantissima, una voragine enorme che di fatto ha diviso in due il paese. Alla gente verrà chiarito tutto, dice l'ex sindaco, possiamo tirare un lungo sospiro di sollievo, ma resta comunque lo scandalo di un tempo così lunghissimo. In Giappone a quest'ora ne avevamo costruite 20 di strade. Io non crollo, solidarietà sul palco, due giorni di musica e vicinanza. Domani e domenica lo 0721 Live Café, l'idea è nata dalla band Shampoo di Pergola, siamo a Frontone. E poi sotto la benedizione picnic premiata in Campidoglio, una notizia che arriva da Sant'Ippolito, sempre nel Pesarese, due poesie della classe seconda della primaria di Sant'Ippolito, protagoniste grazie alla Proloco. Andiamo adesso sulla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico. Studenti sorpresi con la droga, i presidi fanno gli informatori, i dirigenti hanno chiamato la polizia che ha bloccato due minorenni con il fumo in tasca. Blitz al Parco della Pace, un pakistano aveva hashish, un seligalliese invece del metadone. Sotto o meglio sull'altra pagina del Corriere Adriatico, questa volta andiamo a Grottamare per un caso di meningite, il malore, poi il ricovero ed è meningite. Una donna di 74 anni adesso è ricoverata in ospedale a San Benedetto, i medici confermano la diagnosi e scatta la profilassi. È stata ricoverata nel reparto di rianimazione di fermo in prognosi riservata, attesa per i risultati delle analisi. Buone notizie invece tornando in provincia di Pesare Urbino per la guinza. Nel 2018 inizieranno pare i lavori, pronti da subito 100 milioni. L'annuncio è di Armani, presidente dell'ANAS, studiata una soluzione per aprire questo tunnel, un tunnel che chi conosce la storia è lì ormai fermo, se ne è occupata persino striscia, ma è lì ferma da ormai non si sa quanto tempo. Un'incompiuta, la madre dell'incompiuta è perlomeno nella nostra regione. Urbino, l'esito non è così scontato e parliamo del processo per la morte, l'uccisione di Ismaele Lulli a Sant'Angelo Invado, l'esito non è così scontato. Dicevo porteremo a ambera, la ragazza che avrebbe scatenato la gelosia di Igli, porteremo a ambera in aula. L'omicidio di Ismaele, il legale di Igli Metta delinea la strategia per l'udienza del 15 febbraio. E sulla FAN Urbino, la tratta ferroviaria dismessa ormai da più di 10 anni, insomma ricognizione di rete ferrovie italiane sulla tratta. Biancani e Ceriscioli andranno a Roma. Progetti di mobilità sostenibile, dicono, dopo l'analisi di tutta la linea. E adesso invece andiamo sul resto del Carlino. L'apertura, la prima pagina, la vediamo subito. Il porto può attendere, questo è il titolo. L'area, e forse ce la faccio anche a usare il pennarello giallo, il porto può attendere, l'area torna allo scalo bloccata da una mozione bipartisan del Consiglio. Facciamo un concorso di idee, dicono, Crescentini, Campacavallo. E poi sopra rubavano a scuole ed officine, il garage era pieno di refurtive, i carabinieri hanno recuperato 20 mila euro di valore di merce rubata e sono stati denunciati quattro giovani a Tavuglia. E poi la guerra dei ricci. La guerra dei ricci sono Simona Ricci, segretaria della CGL e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. La CGL è il sindacato che critica appunto il sindaco e dice non si occupa del lavoro. Sotto la finanza verifica le dichiarazioni Isee, questo è a Fossombrone, controlli in comune, il sindaco dice si tratta di fatti del passato. Allora ricominciamo dalla pagina di Fano del resto del Carlino perché c'è in primo piano una lettera di protesta di una signora di 80 anni, si chiama Maria Grazia Fanese, che un giorno ha deciso di prendere l'auto, il taxi. E che cosa è successo? Dentro ci ha trovato di tutto e ha protestato e dice io ho fatto un viaggio in quel taxi mondezzaio e si dice sconcertata dopo aver girato in città su questo taxi. Quindi che cosa è successo? La giornalista è salita per verificare, la cronista del giornale è salita e ha scattato queste fotografie, queste immagini che pubblica appunto il giornale questa mattina. E in effetti non è un granché, non è affatto un bel vedere, è una bella accoglienza. E giustamente lei dice se uno arriva a Fano da fuori e sale su un taxi del genere, cosa deve pensare? È uno schifo e si dice appunto giustamente essere fatte. Questo c'è tutto il racconto sul giornale in edicola di questa mattina. Elvai il Carnevale, anche qui c'è la notizia del dolce creato e presentato ieri dal maestro Stefano Ceresani che nella fotografia vedete con il sindaco di Fano Massimo Seri e con alcuni consiglieri, compresa la presidente dell'ente carnivalista Gian Marioli e poi andando invece nell'entroterra ai Colli al Metauro, sapete che si voterà presto per eleggere il nuovo sindaco. E allora questa mattina la notizia è che oltre alla rumorosa e possibile candidatura a sindaco di Colli al Metauro di Stefano Guzzi che è stato per dieci anni anche sindaco di Fano, c'è anche quella di Cappellini che è il vice presidente del Consiglio dell'Unione Vale del Metauro ed ex consigliere di minoranza di Saltara, Andrea Cappellini, che al momento non esclude, non conferma lui, ma affronta volentieri l'argomento e di conseguenza sappiamo benissimo come hanno queste cose nel momento in cui uno arriva sul giornale vuol dire che qualcosa in testa c'è. Sto valutando, dice lui, il da farsi e quindi vedremo insomma che cosa se scioglierà questa riserva nei prossimi giorni. Dicevamo dei controlli della Guardia di Finanza a Fossombrone che stanno riguardando quelli che hanno chiesto, le persone che hanno chiesto sconti sui tributi presentando l'Isee. E allora le fiamme gialle stanno verificando queste domande di agevolazioni, sono circolate voci di avvisi di garanzia anche per dei dipendenti del comune di Fossombrone e il sindaco però nega e non si sbottona più di tanto. Sotto invece a Cagli un altro colpo dei ladri che hanno svaliggiato il bar Esso Caffè, rubate sigarette per 4.000 euro, poi monete dalle slot machine, insomma l'ennesimo ride nel nostro territorio. Ride che ormai ce ne sono tanti, ne raccontiamo praticamente tutti i giorni. Mi pare che non ci sia altro da aggiungere sulla nostra rassegna stampa di oggi. Mi fermo qui, vi ricordo che per le vostre segnalazioni sempre molto importanti c'è questo numero di telefono, lo vedete qua, eccolo qua, 338 49 68 250. Memorizzatelo, scrivetelo nel vostro cellulare perché così facendo potete collaborare insieme alla nostra redazione per realizzare il telegiornale della sera e per tenerci informati, tenervi informati in maniera sempre capillare e tempestiva, non solo i segnalatori di Fano o della Valata del Metauro ma anche gli altri segnalatori, Pesaro, così come quelli nuovi che ci guardano per la prima volta ormai da un mese da Urbino, Urbagna, Cagli, Fermignano, Pergole e quant'altro. Poi andremo anche giù giù ma per il momento ci fermiamo qua. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata.